La puntata di oggi di Uomini e Donne si prospetta ricca di sorprese ed emozioni Come molti probabilmente già sanno, infatti, i telespettatori avranno modo di vedere tra poche ore su Canale 5 la scelta di Milu Faradati La tronista napoletana, nella puntata registrata ieri, ha scelto il corteggiatore Giordano Per la gioia del pubblico in studio, e per i fan della coppia rimasti a casa quest'ultimo ha detto sì, anche se l'epilogo burrascoso in villa, poteva fare pensare il contrario Il riassunto di tutto quello che è successo prima, durante e dopo la scelta di Milu Faradati, verrà mandato in onda oggi dalla produzione Uomini e Donne puntata mercoledì 16 Marco. Ecco cosa accadrà oggi.Stando alle anticipazioni pubblicate ieri in tarda serata, prima della scelta verranno mostrate al pubblico le esterne che Milu Faradati ha fatto sia con Nicolò che con Giordano in villa Quest'ultimo, nello specifico, non digerendo molto il modo in cui l'attronista ha deciso di dividere il tempo a sua disposizione tra lui, e il suo rivale lascerà in anticipo la location Questa decisione pare destabilizzare molto Milu Faradati e, per questo motivo, decide di lasciare la villa prima del tempo A Nicolò Ferrari, che era rimasto quest'ultima scrive una lettera che, tuttavia, non viene molto apprezzata dal corteggiatore, che avrebbe preferito parlare con lei faccia a faccia Uomini e donne oggi, la scelta di Milu Faradati e Giordano. La reazione di Nicolò Ferrari In studio, dopo aver mostrato quanto accaduto in villa, i due corteggiatori vengono poi fatti accomodare fuori per permettere a Milu Faradati fare la sua scelta Il primo a rientrare è Nicolò Ferrari che, dopo aver saputo di non essere stato scelto dall'attronista, reagisce piangendo Dopo Nicolò in studio entra Giordano, agitatissimo e teso. Milu Far lo sceglie, e lui prova a giocare un brutto scherzo all'attronista, facendole credere che il suo sarà un no, ma, alla fine, butta Giordano la maschera e si dice pronto a iniziare una storia con lei fuori dalla trasmissione . . . . .